Luca Di Renzo è il primo colpo ufficiale del Teramo, l'attaccante capocannoniere del girone A di Serie D assistito dall'agente Gianluca Libertazzi firma oggi il contratto che lo lega al sodalizio bianco-rosso. Il giocatore, 28 anni da compiere tra pochi giorni, originario di Torino, arriva su indicazione del tecnico Giovanni Zichella che lo ha allenato nelle giovanili Granata e per un periodo anche in Serie D al Valle d'Aosta. Una grande opportunità dopo una carriera spesa per buona parte in Serie D dove ha dimostrato grande fiuto del gol, 20 segnati in 34 gare nell'ultimo campionato con la Pro Sesto. Ora il confronto con la Serie C è in un teramo che deve sfatare il tabù degli attaccanti visto che dopo la coppia d'oro Donnarumma-Lapadula un po' tutti hanno steccato. Ma la società di Campitelli non si fermerà qui, il reparto sarà rinnovato con altri innesti, frutto di operazioni già messe in cantiere, sono infatti vicinissimi Gianmarco Piccioni, 10 gol in 31 partite lo scorso anno con il Sant'Arcangelo e Vito Leonetti che in Serie D a Vasto ha firmato 19 reti in 32 partite. Insomma il teramo punta su giovani che pur venendo dal basso possono avere la rabbia giusta per sfondare o rilanciarsi tra i pro. Ci sarà da risolvere sul fronte delle uscite la grana Barbuti che è tornato malconcio dal prestito al Gavorrano ed ha un ultimo anno di contratto piuttosto impattante dal punto di vista economico. Non sarà facile per i direttori Capaldi e Federico trovare una nuova sistemazione all'ex Lumezzane Aprilia. Per il centrocampo il nome nuovo accostato al teramo è quello di Roberto Ragneri, il giocatore classe 97 e di proprietà dell'Atalanta ed è appena rientrato dal prestito all'Alessandria nel girone A di Serie C dove ha giocato 21 partite entrando in pianta stabile tra i titolari negli ultimi 4 mesi di stagione. Un buon prospetto visto che nella stagione precedente aveva anche collezionato 30 presenze nel Cosenza. Sul fronte centrocampo valutazioni sono sempre in corso sia per quel che concerne Stefano Amadio che potrebbe lasciare il teramo di fronte ad una buona proposta e Giovanni Graziano che resterebbe volentieri in Abruzzo anche se la società in questo caso nicchia. Entro ieri intanto il presidente Luciano Campitelli ha rispettato la scadenza per il pagamento di stipendi e contributi dei tesserati per l'ultimo trimestre e dentro sabato provvederà a completare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C presentando una fiduzione da 350.000 euro ed un assegno circolare da 30.000 euro valido come la metà dell'importo della tassa di iscrizione.